E' scandaloso quello che sta avvenendo attorno alla cassa integrazione in deroga. E' intanto una questione tutta regionale, perché è la regione che deve trasmettere all'Inps le varie domande e migliaia e migliaia, decine di migliaia di lavoratori attendono che questo governo regionale, questa giunta così lenta, faccia in modo da poter erogare la cassa integrazione in deroga. Siamo tra le ultime regioni d'Italia, è un fatto di una gravità enorme, non cederemo un millimetro fino a quando i lavoratori non avranno i loro soldi nelle loro tasche, come è giusto che sia in questo momento così grave. Così denunciamo la mancanza di programmazione, ormai su ogni settore della nostra regione, anche sui trasporti. Nonostante, giustamente, il trasporto pubblico abbia continuato a godere dei trasferimenti della regione, allo stesso tempo c'è stata un'enorme riduzione in questi mesi scorsi della domanda di mobilità e quindi i costi sono sostanzialmente stati abbassati, sono diminuiti di molto nelle dieci settimane scorse. Ci si presenta invece la fase 2 con di nuovo un aumento della domanda del servizio del trasporto, ma senza programmazione. Noi ci chiediamo quali protocolli di sicurezza per gli utenti e per le maestranze sono stati messi in campo per rispettare il distanziamento sociale, per rispettare quanto richiedono ovviamente i ministeri, il governo e le linee guida per la migliore prevenzione e sorveglianza sanitaria possibile. Cosa avviene se c'è per esempio una persona che presenta linee di febbre? Oppure come si sanifica continuamente il trasporto pubblico ancora, nel momento in cui il numero di persone che possono salire a bordo è inferiore, come raddoppiare le linee per garantire appunto questa misura di distanziamento sociale? La costante è che la giunta è sempre lenta su tutti i settori e non vi è mai una programmazione.